Quando il desiderio di potere supera qualunque altra cosa, è allora che il nostro animo affronta la sua fatal caduta. Vis, Ia, Medo, un viaggio funesto, illusore, di onnipotenza, che conduce nell'oblio di una morte tragica o di una vita maledetta. Questa è la storia del conte Cristofo, accecato dal potere a tal punto da sacrificare la sua umanità e per me il suo unico teore, Lengia. Ud possim dominare i nomnis rengis, ecco dominabur iter tuum, ut possim avere in mano ostes tuos, ecco avevo in mano cortum, ut possim vivere onniss annos temporis, ecco vivam in anima tua.